Buonasera, sono Costantino Belmonte. Volevo dire che c'è la redazione del mio libro punto it. Sfermate. Il padiglione è il K144, padiglione... no, vaffan***o! Ecco, abbiamo parlato troppo presto. Spegni, questo è... spegni! Bello, amore mio, bello! Quanto sei bello! Sei bellissimo! Dopo che avevo fatto questa presentazione, io lo metterò a quella che sta dietro la macchina. L'avida operatrice! E forse in un'altra vita vedrete il video dell'evento. Arrivederci!